Siamo qui con Sofia Dalmonte al termine della partita con Iesi, insomma gioco bello a tratti però sicuramente l'abbiamo portata a casa con cinismo nei finali di set. Sì, abbiamo vinto 3-0 ma non è stata una partita semplicissima perché loro sono una bella squadra e soprattutto difendevano molto e ci hanno messo in difficoltà in tutti i set, infatti siamo anche state sotto a volte di 2-3 punti però la differenza l'hanno fatta ai finali di set in cui noi siamo riuscite a essere più concentrate, più ciniche e a portare a casa i set e poi alla fine la partita. Abbiamo visto una Iesi molto diversa rispetto a quella che si era presentata a casa nostra all'andata, insomma tu che ti occupi del primo tocco durante l'azione fa effettivamente una grandissima differenza essere in casa o essere in trasferta in B1? Sì, loro sono una squadra che comunque batte bene, battono forte e in casa nostra noi siamo riuscite a reagire molto bene alle loro battute perché ovviamente eravamo più abituate, mentre a volte qui ci hanno messo un po' in difficoltà in ricezione però devo dire che alla fine ce la siamo cavata, siamo riuscite a ricevere bene, a fare il giro e quindi devo dire che siamo state molto brave pur essendo fuori casa e sappiamo che fuori casa non è sempre facile prendere i giusti riferimenti con un campo nuovo. Abbiamo visto bel gioco a Sprazi in campo Clay, parliamo dell'attacco, insomma Bughignoli e Folli dopo un periodo iniziale con un po' di fatica, verso la fine il linguaggio del corpo era veramente bello da vedere con molta consapevolezza sui colpi cercati e insomma Gerardi ha giocato tutta quanta la partita secondo me molto bene per essere rientrante e insomma buona intesa con Rizzo, insomma davvero niente male. Sì, come hai detto tu il nostro gioco sta ritornando ai livelli alti delle prime partite e siamo state un mese ferme senza giocare e questo sicuramente un po' ci ha condizionato all'inizio in quanto dobbiamo ancora trovare la continuità giusta secondo me. Però i nostri attaccanti sono tutti molto forti e mano a mano, come hai detto tu Guido stanno diventando anche sempre più consapevoli dei colpi che sanno fare, dei colpi che sono giusti fare in determinati momenti. e Vitto dopo aver passato un periodo in cui appunto è stata ferma per vari problemi anche fisici e oggi ha giocato tutta la partita, ha giocato molto bene, è stata molto brava ma così come anche Bibi, Bughi, Lu, insomma sicuramente possiamo contare su attaccanti molto forti e decisivi nei momenti che contano perché alla fine del set, alla fine del terzo set Bughi quando è entrata ha fatto due o tre punti decisivi che sicuramente ci hanno molto aiutato nella vittoria finale della partita. Quindi brave noi!